Per quanto che ci riguarda la nostra posizione è legittima. La licenza che ci viene contestata è stata rilasciata dal Comune di Arcola e mai il Comune di Arcola ha fatto un atto per revocarla. Quindi l'ente preposto per la revoca delle licenze del Comune, io credo che il Comune sappia quello che stava facendo. Dopodiché c'è questa disquisizione di un giorno, la licenza rilasciata il 7 invece che il 6 e ha portato questa disquisizione giuridica a cui gli ambientalisti si sono attaccati per bloccare un intervento che ha una origine di circa 10 anni. Ha superato tre volte l'autorità di Baccino, è andata ai beni ambientali, abbiamo fatto quattro consufferenze dei servizi. Quindi credo che abbiamo superato tutto il superabile, ma non solo. Noi eravamo già pronti al ritiro della licenza a luglio quando abbiamo chiesto al Comune di Arcola il pagamento degli oneri. Solamente dopo una lunga disquisizione abbiamo pagato gli oneri a settembre e la licenza ci è stata rilasciata il 7 dicembre. Quindi già dopo il pagamento degli oneri di settembre, ben prima dell'alluvione, avremmo potuto ritirare la licenza. Anche questi aspetti di ritardo ci saranno valutati a suo tempo. È un'ammazzata perché la parte produttiva in questo momento sta scontando l'attacco delle banche che non ci stanno facendo nessuno sconto. Non abbiamo dalla nostra parte degli istituti finanziari che ci sorreggono, bensì degli istituti finanziari che in questo momento ci chiedono di rientrare quelli capitali. E questo anche se a volte si spacciano come banche del territorio. La nostra situazione è sicuramente secondo noi molto chiara, nel senso che attualmente la società che io rappresento, il centro di Romito, è in possesso di un permesso di costruire rilasciato il 7 dicembre dal Comune di Arcola, non revocato. Per cui per quanto ci riguarda siamo assolutamente in una situazione di perfetta legalità. Siamo assolutamente fiduciosi nell'operato della magistratura e siamo certi che verrà chiarita la situazione.